Parlando di educazione moderna, è chiaro che ciò che viene insegnato nelle scuole non è conforme alla realtà. Non è un sistema educativo che si ispiri ai veri motivi per i quali educhiamo i nostri giovani, e cioè la spiegazione del ruolo dell'uomo sulla terra. Questa diseducazione ha conseguenze disastrose che finiscono per deformare intellettualmente e moralmente i giovani di oggi, e pertanto la società stessa. Se un numero sufficiente di persone viene manipolata, infatti anche la società subirà lo stesso destino. Qual è il vero scopo dell'educazione? Come cattolici dovremmo saperlo bene, perché va ben oltre il semplice leggere, scrivere, far di conto che in genere associamo al concetto di educazione. Da dove cominciare? Ebbene, dal catechismo di Baltimora, simile a quello di San Pio X. Prima domanda del catechismo. Chi ci ha creato? Ci ha creato Dio. Perché Dio ci ha creato? Dio ci ha creato per conoscerlo, amarlo e servirlo in questa vita, e per goderlo poi nell'altra in paradiso. Bene, questa verità non ha una data di scadenza, quindi non si può affermare che si tratta di una dottrina preconciliare e che pertanto non dobbiamo più crederci. No, è una verità obiettiva, che non muta col tempo o con le mode. Dio ha creato ciascuno di noi per conoscerlo, amarlo e servirlo in questa vita, e per goderlo poi nell'altra in paradiso. Ora, questo può essere vero o falso? Se è vero, allora tutta la nostra vita deve basarsi su questo obiettivo, ed è quindi questa la base sulla quale valutare ciò che costituisce una vera educazione o una falsa. Per capire lo scopo dell'educazione dobbiamo rifarci agli insegnamenti di San Tommaso d'Aquino, secondo il quale l'educazione è la formazione dell'uomo alla virtù. Andatelo a dire agli studenti del college, la formazione di un uomo alla virtù. Il grande filosofo e teologo otomista australiano del XX secolo, padre Austin Woodbury, penso che molti di voi non lo conoscano, descrisse l'educazione secondo un ordine gerarchico ben preciso, diviso in tre livelli. Sul gradino più basso c'è l'educazione fisica, di grande importanza, ma sicuramente inferiore rispetto alle altre due. La seconda è l'educazione intellettuale, anch'essa fondamentale, perché sviluppa le potenzialità più elevate di uno studente. L'intelletto è la capacità fondamentale di formare un giudizio solido. Anch'essa, tuttavia, deve sottomettersi alla terza e più importante forma di educazione, quella morale, responsabile della formazione di un uomo buono e virtuoso. Ecco le tre forme d'educazione messe nel giusto ordine. Un uomo giusto e virtuoso, l'educazione morale, che sia intelligente, preparato e competente, educazione intellettuale, e anche fisicamente in forma, educazione fisica, e cioè addestrato al fair play, all'essere sportivo nel modo giusto. Insomma, questa è la gerarchia dei vari livelli dell'educazione. Padre Woodbury afferma che, poiché il valore supremo nell'educazione morale è quello di produrre un uomo perfetto, tutti gli altri valori passano in secondo piano. Non è una buona educazione quella che produce scrittori di successo, ingegneri brillanti, politici astuti o atleti eccezionali, ma pessimi uomini. Si ritorna all'insegnamento di Sant'Omaso, e cioè che l'educazione è la formazione di un uomo alla virtù. È questo il concetto cattolico d'educazione, un concetto che ormai non viene più applicato neanche nelle scuole cattoliche. Tuttavia, solo questo principio educativo si rifà alla realtà del nostro mondo. Il nostro scopo finale, in quanto esseri umani, è quello di conoscere, amare e servire Dio in questo mondo, per poter poi godere di Dio in Paradiso. C'è bisogno che vi dica che la società moderna e il mondo in cui viviamo esprimono valori e principi diametralmente opposti a quello che vi ho appena detto, perché ne siamo bombardati ogni giorno. Ci troviamo dinanzi ad un mondo, ad un metodo educativo, a politiche sociali ed economiche che si sottomettono completamente ai principi atei e neopagani dell'umanismo secolare. Molto di ciò che sappiamo essere vero viene costantemente attaccato. Non parlo soltanto dei principi cattolici, ma il neopaganesimo è in guerra persino contro gli elementi più basilari della stessa legge naturale. Vi voglio fare un esempio, citandovi l'esperienza del mio buon amico Ed Faust, che ha scritto vari articoli per il Catholic Family News e che ha 20 anni d'esperienza come redattore per un importante quotidiano nazionale. In pratica ha lavorato per 20 anni nel ventre della bestia, all'interno del mondo dell'informazione, e mi ha raccontato che la maggioranza di coloro che lavorano in quel settore segue pedissequamente l'agenda politica della sinistra progressista, quindi tutto ciò che è pro-aborto, pro-sodoma e gomorra, pro-partito democratico, cose come l'isteria del riscaldamento globale, il governo forte, uno stato socialista e così via. Ecco cosa ha scritto in un suo articolo apparso sul Catholic Family News nel giugno 2009. I giornalisti dei quotidiani sono in genere i prodotti delle scuole di giornalismo presenti in molte università. Personalmente non ho mai partecipato ad un corso di giornalismo, ma chi ne esce è diplomato in genere ed ha un'idea piuttosto accurata di quale sia il livello di quegli studi. Quei reporter arrivano in sala stampa con un bel diploma, talvolta persino un master in giornalismo, ma quando devono scrivere il loro primo articolo, in genere rivelano come i rudimenti di grammatica, la sintassi e la punteggiatura non abbiano assolutamente fatto parte dei loro studi. Molti sono incapaci persino di scrivere una frase di senso compiuto, o tantomeno di esprimere un argomento o una tesi in modo logico. Che cosa hanno appreso allora? Solo l'atteggiamento del giornalista, nulla di più. Gli studenti in giornalismo vengono indottrinati a determinati atteggiamenti, idee politicamente corrette che colorano il loro modo di vedere il mondo. In pratica, anche se spesso inconsciamente vedono ogni cosa attraverso la lente del liberalismo e non considerano neanche per un istante che un'opinione diversa dalla loro possa meritare rispetto o persino la loro attenzione. Capite? I giornalisti di oggi vengono educati ed addestrati principalmente ad avere il giusto atteggiamento politicamente corretto, in altre parole, un atteggiamento di sinistra. Ma lo scopo del giornalismo non è quello di presentare le notizie all'opinione pubblica in maniera libera ed indipendente in modo che quest'ultima possa farsi un'opinione adeguata per il bene comune? No, non più. Ormai i giornalisti vengono indottrinati. Non so se conoscete Camille Paglia, una scrittrice di sinistra, e con lei dissento praticamente su ogni cosa. Tuttavia, sotto alcuni punti di vista e in determinati ambiti si può considerare una pensatrice libera e possiede sicuramente un certo buonsenso. Ebbene, ecco cosa ha affermato sul sistema educativo moderno, specialmente quello delle università. L'educazione elitaria negli Stati Uniti è diventata una frenetica catena di montaggio di richieste di iscrizione a scuole dove il lavaggio del cervello di stampo ideologico è così diffuso da risultare praticamente invisibile. È un'affermazione piuttosto forte, lavaggio del cervello di stampo ideologico tanto diffuso da risultare invisibile. Non so se qualcuno di voi ha avuto modo di vedere il bellissimo documentario intitolato Indoctrinate You. Vi avverto, ci sono alcune parti un po' pesanti, ma vale la pena di vederlo. L'ha diretto Evan Coyne Maloney e parla dell'istruzione superiore negli Stati Uniti. Indoctrinate You. In questo documentario incontriamo il professor David Clements del College di Monterey, il quale ha affermato che sono le università più importanti degli Stati Uniti, a tracciare le linee guida per l'indottrinamento universitario ad ogni livello. Ecco cosa ha detto il professor Clements. L'atteggiamento prevalente è quello di far ciò che ti dicono, se vuoi evitare guai. Per paura di ritorsioni, nessuno si oppone a questo gruppo di pressione e quindi, pur di soddisfarlo, gli insegnanti finiscono per fare cose assurde. Nel documentario Clements fa vedere un foglio di carta, un modulo che ogni insegnante ha l'obbligo di compilare e di esporre agli studenti ogni qualvolta desideri creare un nuovo corso. In quel foglio agli insegnanti viene chiesto di inserire una descrizione di come gli argomenti di questo corso saranno in grado di sviluppare una comprensione dei problemi legati a questioni di razza, classe e genere. Ma questo riguarda tutte le classi, non soltanto i corsi di sociologia, psicologia e scienze politiche. Questo vale per i corsi di matematica, fisica e così via. Clements ricorda che anche un suo collega che insegnava orticultura ornamentale fu costretto a spiegare come il suo corso avrebbe sviluppato la comprensione dei problemi legati a questioni di razza, classe e genere. Già, me l'immagino. È l'assurdo al potere. Clements però va oltre, perché questo sistema deve essere un'aperta violazione degli standard accademici e del concetto di libertà accademica. Poiché non mi adeguai al sistema, dice Clements, veni subito etichettato come razzista, sessista, omofobo e così via. Tuttavia, conclude Clements, se riesci a persuadere i tuoi studenti della validità di anche solo un paio dei principi di legge naturale, contrapposti a quelli falsi che vengono inculcati loro fin da piccoli a tutti i livelli, ecco che avrei fatto un enorme passo avanti nell'adempiere al tuo dovere, in quanto insegnante, di formare la gioventù di questo paese. L'esempio dato da Clements è indicativo. L'educazione superiore è diventata ormai un campo di indottrinamento del politicamente corretto e dei principi liberali di sinistra, anche se il tutto è fatto in modo invisibile. Gli studenti non se ne rendono conto, ma a loro viene proposta soltanto una visione del mondo di tipo progressista e liberale, che non è solo deficitaria, ma anche errata. Il grande storico cattolico Hilary Belloc ha definito l'uomo moderno il nuovo barbaro, sottolineando come quest'ultimo non possa più creare nulla, ma solo distruggere. Egli può soltanto prendere e usare il capitale lasciatogli dal passato, senza però lasciare nulla in cambio per le generazioni future. Fateci caso, anche negli istituti più prestigiosi, nella maggior parte dei casi, non si affrontano più questioni filosofiche fondamentali, come la comprensione della vita e del nostro ruolo sulla Terra. Ci viene insegnato soltanto a dubitare o a mettere in discussione ogni cosa che abbiamo imparato. L'unica cosa di cui siamo certi è che siamo certi di non sapere nulla, ma anche coloro che sono convinti del fatto che non si può essere sicuri di nulla non vivono certo secondo quel principi. Ho avuto il privilegio di studiare filosofia col dottor Raphael Waters, uno dei massimi filosofi tomistici del mondo, il quale un giorno ci raccontò di una discussione avuta con uno studente universitario, secondo il quale non si può essere sicuri di nulla. Sei sicuro di quel che dici? gli chiese il dottor Waters. No, non posso esserne sicuro, rispose lo studente. Quindi non sei sicuro di non essere sicuro? No, non sono sicuro di non essere sicuro. Bene, ma allora sei sicuro di non essere sicuro di non essere sicuro? Questo scambio andò avanti per un bel po' fino a che il dottor Waters non fece cadere quello studente in una trappola. Aspetta, aspetta, gli disse, sono confuso. Tu mi stai dicendo che puoi essere certo di qualcosa, mentre io dico che non puoi essere certo di nulla? No, 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 professore, rispose lo studente. Lei sta dicendo che si può essere certi di qualcosa, mentre sono io a dire che non è possibile. Al che il dottor Waters gli disse, ah ah, quindi sei certo di questa differenza, non è così? Rintuzzato dal suo professore, quello studente si ritirò dagli studi. Qualche tempo dopo tornò a riscriversi all'università e al decano che gli chiedeva i motivi del suo ritiro, quello studente rispose, perché uno dei vostri professori mi aveva fatto fare la figura dello scimpanzé, quindi ho deciso di tornare a casa e di studiare di più. Ok, stiamo quindi vivendo in questo momentaneo trionfo del neopaganismo e dei principi enunciati dal manifesto umanista. Quanti di voi ne hanno sentito parlare? In pochi, come pensavo. Vi spiego di cosa si tratta. Il primo manifesto umanista è del 1933, il secondo è del 1974. Non è un documento di una società segreta, non è una teoria del complotto o un raduno misterioso del gruppo Bilderberg. Si tratta di un manifesto pubblicato ufficialmente, firmato da centinaia di leader politici, accademici ed economici di tutto il mondo. Come ho detto, il primo risale al 1933 ed il secondo al 74. Se volete veramente comprendere che cos'è diventata l'America al giorno d'oggi, ma direi tutta la società occidentale in generale, allora dovete leggere questi manifesti dell'umanismo. Ormai la nostra società è strutturata secondo i principi di quei manifesti. Lo vediamo nell'educazione, nell'informazione, nell'intrattenimento e nei moderni programmi governativi. Non è altro che neopaganesimo. Quei manifesti contengono i seguenti principi. Non esiste alcun Dio vivente che abbia creato l'universo. L'universo esiste di per sé stesso, senza alcun creatore. L'uomo è il prodotto di cieche forze evolutive. Il concetto di uomo, in quanto entità fatta di corpo e di anima, va rifiutato completamente. La promessa del cielo e la minaccia dell'inferno sono solamente vuote ed inutili superstizioni. Questi manifesti, firmati da alcune tra le più importanti figure laiche e mondiali, affermano inoltre che la religione non ha fatto nulla se non porre assurde ed inutili restrizioni alla libertà dell'uomo, che tra adulti consensienti tutto è permesso, che l'aborto, la contraccezione e l'eutanasia non sono soltanto cose positive ma anche necessarie per il futuro dell'umanità. Inoltre, questi manifesti sostengono che non esiste alcun codice morale oggettivo, che certamente non esistono i dieci comandamenti, che non v'è alcuna etica oggettiva e che ogni cosa che tutto ciò che ha a che vedere con il comportamento dell'individuo è assolutamente soggettivo e situazionale. Promuovendo una vera e propria deificazione dell'uomo, ormai diffusasi a tutti i livelli, oltre che a rifiuto degli elementi più basilari della legge naturale, questi manifesti hanno portato la società odierna ad insegnare che non esiste la cosiddetta natura umana, che l'uomo può ridefinire a suo piacimento il concetto di matrimonio, che non esistono distinzioni di genere sessuale in quanto si tratta di concetti imposti durante la storia da una società primitiva. Tutto e tutti sono semplicemente il prodotto della volontà umana. Gloria all'uomo nell'alto della sua potenza perché l'uomo è l'arma più potente dell'universo, un po' come la morte nera, insomma. Tra i firmatari di questi manifesti troviamo gente come Alan Guttmacher della Planet Parenthood, una lobby che ha in mano il presidente Obama, la femminista radicale Betty Friedan dell'Organizzazione Internazionale delle Donne. Ma risalendo al manifesto del 1933, uno dei suoi più importanti firmatari fu John Dewey, il padre dell'educazione moderna in America, i cui principi ate e liberali sono alla base della formazione di intere generazioni di giovani americani. Purtroppo, nella nostra epoca, prevalgono in tutto il mondo, non solo in America, proprio questi principi contenuti nel manifesto umanista. Accade nelle università, negli organi dell'informazione e costituisce insomma un trionfo, anche se momentaneo, delle forze dell'umanesimo secolare che non sono certo neutrali nei confronti della cristianità e dei suoi principi, anzi sono suoi nemici dichiarati. Detto questo, possiamo finalmente azzardarci a parlare di totalitarismo. Uno degli errori più comuni quando si pensa o si discute di totalitarismo è quello di associarlo automaticamente alla dittatura, ai carri armati per le strade, ai soldati che vengono a prenderti alle 5 del mattino per portarti nei gulag, ai checkpoint sparsi per la città. Sì, certo, questo può far parte di un regime totalitarista, ma è soltanto una delle sue manifestazioni. Una forma di totalitarismo diversa sia laddove lo Stato si arroga il diritto di dettare quali devono essere i nostri valori morali, quando pretende che la nostra coscienza religiosa, formatasi sulla base di 2000 anni di insegnamenti della Chiesa, oltre che fondata sulla legge naturale, non ha più alcun significato di fronte ai programmi governativi. La nostra religione deve far spazio alla legge sulla sanità. Non volete essere coinvolti nei programmi di sostegno alla contraccezione? Non volete essere coinvolti nell'omicidio brutale dei bambini non ancora nati? Non volete contribuire agli aborti o alla contraccezione perché si tratta di veri e propri affronti alla legge divina o è naturale? Peggio per voi, perché la Casa Bianca di Obama vi costringerà a farlo, volenti o nolenti. Il Presidente Obama ci ha detto che non abbiamo alcuna possibilità di attenerci alla nostra coscienza. È il governo a dettare cose giuste e cose sbagliate oramai. Noi non abbiamo più alcuna voce in capitolo. Ecco, questa è una forma di governo implicitamente ma decisamente totalitarista. Come ha spiegato il filosofo atomista il dottor Dennis Bonnet, qualsiasi governo che si arroghi il diritto assoluto di prendere decisioni che violino la coscienza più intima dei propri cittadini ha appena creato uno Stato totale. Il che significa uno Stato totalitarista. Lo Stato si arroga il diritto di controllare i propri cittadini anche negli ambiti più reconditi e privati questi possano obiettare o resistere. Lo stanno facendo ai cattolici ma prima o poi lo faranno a tutti. Si tratta di una forma di totalitarismo, un vero Stato assolutista. Non c'è bisogno che abbia le parvenze di una dittatura militare, non importa se continuiamo a vedere istituzioni apparentemente democratiche come la Casa Bianca, il Senato, la Camera dei Deputati o la Corte Suprema, la separazione dei poteri e cose del genere. La forma rimane ma la sostanza è cambiata perché il nostro è diventato uno Stato totalitario che viola l'essenza stessa dello Stato naturale, che in teoria dovrebbe riconoscere e garantire i diritti di tutti i suoi cittadini, specialmente quelli relativi alla libertà di coscienza. Faccio una piccola deviazione per parlare di un esempio tipico di questo atteggiamento, le cosiddette unioni omosessuali. Se possiedi un esercizio commerciale, che so, un bed and breakfast e ti rifiuti di accogliere una coppia omosessuale, puoi essere denunciato e finire in prigione. Ora mio padre, pace all'anima sua, è morto vent'anni fa, era un musicista e suonava spesso ai matrimoni. Se fosse vivo oggi, probabilmente si rifiuterebbe di suonare ad un matrimonio omosessuale e quasi sicuramente sarebbe finito in prigione. Ecco dove siamo arrivati. Come molti di voi sapranno, Barack Obama, con l'appoggio del Partito Democratico, oltre due anni fa ha smosso mari e monti per introdurre queste nuove leggi sull'assistenza sanitaria universale, la cosiddetta Obamacare, le cui conseguenze letali stanno venendo alla luce soltanto adesso. Come tutti voi saprete, Barack Obama ha imposto alle istituzioni cattoliche di fornire strumenti di contraccezione, di sterilizzazione ai propri impiegati per le cosiddette legittime procedure mediche e preventive. Se le istituzioni cattoliche non obbediscono, lo Stato multerà la chiesa cattolica con sanzioni pesantissime. Stiamo parlando di milioni e milioni di dollari e molte di esse saranno costrette a chiudere. Non è un mistero, sta già succedendo, ed è tutto dovuto alla cosiddetta Obamacare.